Sì, noi siamo il team Octobit, siamo qua per presentare Cupsize, un gioco di cult deckbuilder roguelike ispirato alla modalità avventura di Airston o Aslan e Spider. Come ogni deckbuilder tu incominci con un mazzo base di pirati scarsissimi e affronti le ciurme che sono presenti nel gioco ci sono gli sciamani, i crackers, gli orientali, i non morti e la marina. La trama del gioco è che all'inizio del gioco muore il capitano, il re dei pirati e lascia dietro di sé un tesoro pichissimo che tutti vogliono raggiungere, quindi tutti convergono verso un punto e tu, andando verso quel punto, affronti le varie etappe con il servio, se riesce ad arrivare alla fine.